il più grande bug mai visto su meta slug base distrutta ap bloccati timer bloccato posso far niente pausa pausa bloccata niente adesso qua si accumulano l'italia infinito tra l'altro tutto è meta cancer vedete va benissimo bastardo bastardo snk ci fa di certi ciocchi ma cosa cazzo faccio devo riavviare il gioco